La CNS è una tessera sanitaria che oltre a svolgere le normali funzioni sanitarie e di tesserino del codice fiscale, ha anche la funzione di carta nazionale dei servizi per l'accesso ai servizi telematici della pubblica amministrazione e privati aderenti, in quanto dotata, oltre che della banda magnetica, di un microchip. La tessera sanitaria CNS è uno strumento versatile e potente. Al suo interno custodisce in modo sicuro il certificato digitale del titolare. Il metodo di autenticazione con tessera sanitaria per usufruire dei servizi online della pubblica amministrazione è una modalità di accesso che garantisce una sicurezza di livello 3, in quanto implementa lo standard CNS contenente l'apposito certificato di autenticazione. Per utilizzare la tessera sanitaria come carta nazionale dei servizi ed accedere ai servizi telematici, è necessario che il titolare della carta proceda all'attivazione della stessa. Presso uno degli sportelli autorizzati dalla Regione Puglia al rilascio, come ad esempio gli uffici anagrafici dei distretti ASL, si può attivare anche per delega, nel caso in cui il titolare sia impossibilitato, e nei casi previsti dalla normativa, per genitori, tutori e curatori. Quindi, recandosi allo sportello con tessera sanitaria, documento in corso di validità, entrambi anche in fotocopia fronte retro, ed e-mail, si richiedono i codici personali, ossia i codici di accesso PIN e PUC e il codice di identificazione CIP. Tali codici sono forniti in due fasi distinte, allo sportello durante le operazioni di attivazione della Carta Nazionale dei Servizi, e via e-mail. Tali codici vanno custoditi con cura. Hanno funzioni specifiche che è bene ricordare. Il codice PIN è quello che si deve usare per effettuare l'accesso ai servizi web, il codice PUT per riattivare il PIN dimenticato, e il codice CIP per la revoca della tessera sanitaria CNS, in caso di smarrimento o furto della stessa. Nel caso invece di smarrimento del codice PIN, il titolare può richiedere il duplicato recandosi presso gli uffici preposti dalla regione di assistenza. A questo punto, è necessario disporre di un personal computer con collegamento a Internet, di un idoneo lettore di SmartCore, e installare il software per la gestione della tessera sanitaria CNS. Il driver va individuato in base al tipo di tessera e al sistema operativo del proprio computer. Per concludere l'abilitazione della Carta a Servizi è essenziale inserire la tessera, con chip rivolto verso l'alto, nel lettore SmartCore collegato al computer, ed effettuare la registrazione. Di supporto, nella e-mail ricevuta dopo l'attivazione, oltre alla seconda parte dei codici, vengono fornite indicazioni operative per effettuare il download del driver. Bisogna seguirle in maniera attenta, in quanto sono processi tecnici che richiedono vari passaggi. Con la verifica software della gestione della SmartCore e la verifica dei servizi per le SmartCore, verrà completata con successo l'intera procedura. Ultimate queste operazioni, si è pronti a usare la tessera sanitaria abilitata CNS per accedere ai siti web che prevedono tale modalità di login. Come fare? Va ribadito che il sistema di autenticazione con tessera sanitaria CNS funziona allo stesso modo per tutti i siti. Occorre il lettore di SmartCore connesso a una porta USB del computer, a cui va inserita la tessera sanitaria CNS nel lettore, e avere sotto mano il codice PIN. Facciamo ora un esempio concreto accedendo al sito web Puglia Salute. Selezionando dal menu di navigazione, Servizi online, scenderà una tendina da cui si può richiedere uno dei servizi disponibili. In questo esempio scegliamo, Scelta e Revoca medico. Si aprirà una pagina di spiegazione del servizio. Per procedere, cliccate sul riquadro in alto a destra in cui vi si chiede l'accesso al servizio con autenticazione. Nella nuova pagina che va ad aprirsi, dovete scegliere il modo con cui volete autenticarvi. Scegliete CNS e TS e cliccate su Accedi. Apparirà un pop-up dove bisogna selezionare il tipo di certificato per l'autenticazione e poi cliccare su OK. Seguirà un altro pop-up su cui va digitato il PIN. Fatto ciò, l'operazione di autenticazione è già terminata con successo, perché dopo pochissimi secondi verrete reindirizzati sulla pagina del servizio richiesto. Scegliete CNS e TS